Andiamo in provincia adesso esattamente a Castelnuovo, è stato aperto il Festival dell'Uva, fino a domenica degustazioni di vino e prodotti tipici, ma anche spettacoli ed eventi, la manifestazione si terrà nell'area del Parco Tionello alla Torre Viscontea. Quattro giorni di festa a Castelnuovo del Garda, per il secondo anno dell'era Covid il Festival dell'Uva sostituisce la tradizionale festa dell'Uva, fino a domenica degustazioni di vino, buona gastronomia, eventi, mostre d'arte e serate musicali con un mercatino artigianale, giochi per bambini e iniziative di società sportive ed associazioni, il tutto nell'area limitata del Parco Tionello alla Torre Viscontea a cura della Proloquo e del Comune. La tradizione deve andare avanti, tradizione insieme all'innovazione, per questo l'abbiamo chiamato Festival dell'Uva, perché ovviamente non possiamo fare come abbiamo sempre fatto la solita festa dell'Uva, in attesa noi ci innoviamo, allora quest'anno, come l'anno scorso, valorizziamo un altro luogo di Castelnuovo del Garda, che è il Parco Tionello sotto la Torre Viscontea, dando così modo ai nostri cittadini, anche ai turisti, di scoprire un altro luogo meraviglioso di Castelnuovo del Garda. Sindaco, l'ingresso avverrà con Green Pass, in tutta sicurezza quindi si possono organizzare momenti di socialità. Assolutamente, abbiamo organizzato il tutto per far sentire tranquille le persone che verranno alla nostra festa, perché dobbiamo continuare a fare comunità anche in periodi di Covid. Dunque, Castelnuovo celebra il vino, ma non solo. Tante le attrazioni, tra cui l'esibizione di A Different Circus Tanzania, in programma sabato alle 21, nonché un gemellaggio speciale. Un gemellaggio tra la nostra maschera più importante che abbiamo a Castelnuovo e la maschera di Crescentino. La domenica mattina alle 11.30 ci sarà in sala civica il nostro gemellaggio e nel pomeriggio verrà fatta anche una manifestazione importante che si chiama Carnevale Settembrino. Questa è una manifestazione di quattro giorni che sarà una vetrina per Castelnuovo del Garda, dove verranno presentate tutte le eccellenze di Castelnuovo sotto l'aspetto enogastronomico. Quindi è un grande lavoro di squadra delle nostre realtà, sia associative che anche produttive, che vogliono mettere in mostra il lago di Garda, il Monte Baldo e anche tutte le nostre capacità del nostro territorio.